Tutti siete, voglio correre l'interno 4-4-8 Perché sappiamo che non lo so Intanto ancora, il che bravare non finisce qua il verino E come stanno facendo un'offerta E come stanno facendo un'offerta E come stando facendo un見ORE E come stanno facendo un' fetch E come stanno facendo un'offerta Salva Martio, ora tutto il gruppo